benvenuti a una nuova puntata di genesis con alessandro de angelis con lui come sempre parleremo di storia di percorrendo la vita di gesù attraverso la sua famiglia attraverso la sua famiglia quindi attraverso i suoi avi e la sua discendenza per arrivare gradatamente all'attualità potrete naturalmente recuperare le puntate precedenti nella playlist dedicata a genesis benvenuto alessandro ciao carmen ciao come stai anzitutto non ci vediamo da tre settimane spero che tu abbia trascosto bene sì stiamo andando avanti con la ricerca stiamo finendo il libro il secondo volume di oltre il velo di iside il titolo è dal dna di gesù all'identità di re artù dovrebbe essere prossimo all'uscita all'uscita no guarda sta finendo un paio di capitoli il mio figlio alessio da inserire nel libro molto complessi tra l'altro perché abbiamo fatto arrivare dei libri in ebraico dall'estero con un libro che ci ha servito tantissimo con l'attestazione delle frequenze dei nomi no visto che molte persone ci dicono sempre ma maria era un nome comune ma gesù era un nome comune magari c'è stato un caso di omonimia eccetera eccetera proprio attraverso la frequenza dell'attestazione dei nomi abbiamo visto che tutto questo non era possibile e altri libri ma stiamo parlando di libri che costano tanto carmen tanto abbiamo di abbiamo speso migliaia di euro ci ricompensino perché le nostre scoperte storiche non le facciamo attraverso le fonti di wikipedia o altro ma attraverso fonti inedite che pochissime persone hanno l'altro libro invece riguarda proprio le tombe di personaggi del primo secolo gerusalemme e lì è perché abbiamo messo il titolo dal dna di di gesù all'identità del re artù perché siamo arrivati poi attraverso i primi papi svelando chi erano siamo sono arrivato fino a svelare chi era il mitico re artù ed era tutto allacciato questo percorso passando per costantino lo cui madre elena era ebrea tra l'altro perché e abbiamo trovato la tomba di simone boeto era nonno di gesù nonno materno simone boeto era il padre di maria terza moglie del erero del grande e simone boeto ebbe maria da cleopatra dall'altro su focus fanno continuamente eh documentari su cleopatra stanno cercando la tomba di cleopatra e nessuno però parla delle nostre scoperte storiche cleopatra settima madre della regina maria ovviamente hai detto parlate anche di me nel senso hai magari gli è sfuggito non so parliamo anche no ho detto ah se hai fatto una richiesta cioè se ha scritto loro no 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 ma guarda ti assicuro che loro sono informatissimi sulle nostre scoperte storiche tutti quanti eh ce ne accorgiamo perché i primi a comprare i nostri libri sono proprio l'elite i massoni interessati alle nostre scoperte dopodiché però avviene censura e congiura del silenzio l'altra tomba che abbiamo trovato è proprio quella di paolo di tarso che da chiesa voleva spacciare per essere a roma così non è poi spiegheremo perché e paolo di tarso era il nipote di gesù altre due tombe sono di una figlia di gesù quando vedrete chi era il nome di questa figlia vedrete come era lacciata la famiglia degli erodiani come questi poi si mettevano sempre i stessi nomi e di una sorella di gesù avuta proprio da teuda e da maria boeto quindi attraverso inoltre un figlio di gesù questo ve lo anticipiamo ma qui non abbiamo trovato la tomba ma abbiamo trovato eh il documento che ne parla un figlio di gesù il cui nome carmen era erode cioè gesù quise il nome erode a suo figlio il nome del padre cioè erode il grande quindi partiamo da per la puntata o vogliamo partire dall'ultima puntata nel senso l'altra volta avevamo abbiamo parlato del confronto che hai avuto eh con il professore sacerdote sacerdote Pasquale Basta dell'una della pontificia università urbiniana eh parlavi di Paolo di Tarso quindi vogliamo partire da qua o dal filo eh insomma no 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 partiamo 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 da da qui perché ovviamente se non fossi stato bruscamente interrotto dal chirichetto che eh mi fermò dicendo basta basta bisogna fare la preghiera andò vedendo che tutti i parrocchiani erano basiti e il professore candidamente ha detto io sono un biblista non sono uno storico e quindi non era in grado di confutare le mie scoperte storiche non mi sarei certamente fermato lì sarei continuato ad andare avanti tant'è se hai visto il video io mi ero alzato in piedi e mi ero rivolto non più verso il professore del Vaticano ma verso tutti i presenti fedeli che stavano che erano venuti lì ad assistere a un convegno proprio su Paolo di Tarso ed avrei continuato poi a parlare di Paolo eh di Tarso personaggio importantissimo perché perché oltre al nipote di Gesù è colui che costruì poi il cristianesimo promuovendo la figura di Gesù insieme a eh tutto il Mediterraneo tant'è che molte persone mi sono chieste ma eh sono sono invenzioni come faceva questo personaggio a eh fare tutti questi viaggi in zone come la Cappadocia eh la Trascia varie zone della Turchia Roma eccetera eccetera beh dobbiamo ricordare innanzitutto che questi avevano i romani avevano a disposizione delle 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 triremi che erano molto veloci non è che ci voleva molto a fare un viaggio con eh queste navi ma soprattutto e ne parliamo anticipiamo quindi delle scoperte del secondo libro ma che sono poi mh poca roba rispetto al contenuto del del DNA di Gesù di queste tombe ritrovate o di di realtà ma che sono invece però importantissime proprio su Paolo di Tarso per capire che ciò di cui narrano gli atti degli apostoli libro scritto eh dall'evangelista Luca eh dottore che eh passò parte della sua vita insieme a Paolo di Tarso in queste missioni racconta proprio negli atti degli apostoli e quello che io avrei portato da davanti all'attenzione del professore del del Vaticano sarebbe stato proprio eh questi fatti che vengono narrati su Paolo di Tarso negli atti degli apostoli quindi oggi andiamo ancora avanti su quel percorso per far capire a tutti quanti visto che ci chiedono continuamente ma sono libri storici oppure parlano di cavolate e io ho detto sono libri storici dove però i personaggi subiscono un processo di divinizzazione al fine di deificarli ma i racconti che si narrano eh di questi personaggi sono vicende vere e realmente accadute e allora entriamo un attimo un'altra cosa poi che usano i troll di alto livello cara Carmen quale è è quella di dire dopo i cinque minuti spengo perché eh i suoi discorsi sono molto complicati le genealogie sono complesse si cerca di fare disfattismo cercando di far capire alle persone che sono talmente complesse le mie scoperte storiche da non essere eh abbordabili dagli altri ma bastano due neuroni no per capire le genealogie perché in fondo eh certo cercano di disattivarli anche quella di persone per non fare per non farli arrivare a queste scoperte perché in fondo anche tu Carmen avrai dei genitori dei nonni figli nipoti sorelle sarai zia di altri nipoti eccetera eccetera quindi capire delle genealogie non è una cosa così complessa come vogliono farci credere ma quando queste diciamo che in questo caso la difficoltà è che speste volte utilizzano gli stessi nomi no quindi per esempio tu raccontavi che il figlio di Gesù si chiamava Herode come papà e quindi il fatto che utilizzino gli stessi nomi rende molto più complicata la cosa però io dico che se c'è buona volontà noi facciamo questi video di approfondimento uno se li può riguardare più volte anche per capire come dicevo nell'introduzione qual è la nostra storia oggi perché se uno non comprende la storia del passato non si rende conto neanche della storia attuale quindi è necessario secondo me sì ma tra l'altro poi Carmen sai bene che fino a non lo so al dopo guerra era usuale mettere un figlio il nome del nonno no sì sì prima ancora poi mettevano il nome uno dei figli al tempo degli erotiani prendeva sempre il nome del padre ecco allora che per distinguerli magari erode hanno messo il grande eh per far capire che l'altro figlio erode era figlio di erode il grande in realtà poi leggendo i libri la questione non è così eh difficile allora riassumiamo un attimo invece le scoperte che abbiamo fatto su paolo di tazzo no io eh le vado molto velocemente visto che ne abbiamo parlato nella puntata precedente dissi al professore eh basta eh professore ma Paolo di Tarso poteva essere un erodiano perché perché noi proprio nei libri delle attestazioni delle frequenze dei nomi abbiamo scoperto che solamente personaggi della famiglia di erode avevano il nome erode e Paolo di Tarso ad un certo punto disse saluto i familiari di Aristobulo ed erodione mio parente quindi da questa informazione sapevamo che aveva un parente che si chiamava erode quindi era un erodiano anche lui e subito dopo gli dissi anche lo storiografo Tito Flavio Giuseppe parla di Paolo di Tarso e conferma il fatto che Paolo di Tarso fosse un erodiano quando ci dice in guerra giudaica da parte loro Costobar e Saul il nome di Paolo di Tarso era Saul o Saulo raccogli raccolsero bande di malviventi loro stessi erano distirpe reale e raccolsero favori a motivo della loro parentela con Agrippa ma erano sfrenati e pronti a spogliare le proprietà dei più deboli ebbene il re Agrippa era figlio di Aristobulo figlio di Ero del Grande quindi Agrippa primo era nipote del re Ero del Grande in questo caso però eh non si parla di Agrippa primo che morì nel 41 ma si parla del figlio di Agrippa primo cioè Agrippa secondo quindi pronipote del re Ero del Grande e Agrippa il re Agrippa primo che morì nel 41 ebbe tre figli Drusilla Agrippa secondo e Merenice adesso vediamo perché sono importanti ehm questi personaggi altra informazione che ci ha dato lo lo storiografo di Toflavio Giuseppe è che Saul oltre che a raccogliere bande di malviventi ma insomma questa era una cosa normale no per questi cristiani e derubare di erano sfrenati pronto a spogliare le proprietà dei più deboli e voglio dire ieri come oggi non è cambiato bene praticare bene rassonare male guardiamo quello che fanno i comunisti oggi no predicano bene per poi sfogliarci tutto quello che abbiamo con la scusa del green ed altre eh ed altre cosette è quello che di farci sapere che in un altro passo di guerra giudaica ci dice che Costobar era il fratello di eh Paolo di Tarso e guarda caso quindi ci dà l'informazione Paolo di essere parente di Agrippa di avere un eh un fratello che si chiama Costobar la sorella di Agrippa Erodiade madre di Paolo di Tarso San Paolo eccolo qui Erodiade aveva un nonno che si chiamava Costobar e eh questo Costobar sposò la sorella dell'era del grande Salome quindi vedi con vedi come tutti i nomi tornano tra di loro poi Salome quella che aveva chiesto la testa di Giovanni no eh quella è Salome sorella di Paolo di Tarso in questo caso stiamo parlando della sorella di Erodiade grande del rero del grande ok no faccio questa distinzione perché ogni tanto mi perdo anch'io proprio per il fatto che hanno più Salome sì e quindi è facile eh sbagliarsi ero del grande aveva una sorella Salome e eh la figlia di questa di Salome e di Costobar che si chiamava Berenice Terza sposò questo Aristobolo da Aristobolo nacque Erodiade da Erodiade nacque San Paolo Costobar e Sanomè Erodiade sposò suo zio Erode figlio sempre di Erode il grande e fratello di Aristobolo e di Alessandro questi due questi tre sono tutti e tre figli di Erode Erode Aristobolo e Alessandro Aristobolo e Alessandro il eh eh Dio li uccise nel sette avanti Cristo Dio sarebbe Erode grande ovviamente no? Essendo Gesù il figlio di Dio va da sé che eh il padre era Erode del grande e quindi decise di uccidere questi due figli nel sette eh avanti Cristo e eh entriamo invece nel merito delle storie che vengono raccontate negli atti degli apostoli da eh Paolo di Tarso siamo intorno al cinquantasei ovviamente dopo Cristo eh e eh ve lo leggo dagli atti degli apostoli proprio che cosa successe Paolo di Tarso stava predicando eh asserendo che portando avanti il messaggio di Gesù asserendo che Gesù tra l'altro era ancora vivo e lo era? Sì come no? Sì morì nel 68 ma cambiò il nome e prese il nome di una delle città dove viveva eh insieme a sua madre che era la città di Gamala intanto è che l'abbiamo ritrovato poi come Gesù Gamala nei testi di Flavio Giuseppe quando ad esempio lui va predica eh si dice che lo volevano buttare dal precipizio Nazareth è una città situata in pianura oppure una leggera collina dove non c'è nessun precipizio quella città abbiamo portato tutte le prove ne parlò per primo eh Donnini che era proprio la città di eh Gamala che era controllata da eh un altro figlio di eh erode il grande che era il tetrarca Filippo che sposò proprio Salomè la sorella di Paolo di Tarso eccola qui Salomè ok e quando ci dice che eh saluto quelli della cassa di Aristobolo saluto erodione mio parente lo dice Paolo di Tarso il lettere ai romani Salomè dopo la morte del marito il tetrarca Filippo che poi era zio di Salomè anche lui il tetrarca Filippo era figlio di erode il grande Salomè sposò Aristobolo pronipote di Noè re della calcide ed ebbero un figlio che si chiamava erodione ecco perché Paolo quando andò a casa di Aristobolo saluto eh i famigliari di quelli della casa di Aristobolo saluto erodione mio parente Paolo di Tarso era lo zio di questo erodione nonché cugino di primo grado di Agrippa secondo da parte materna cugino di primo grado di Agrippa primo da parte paterna perché cugino di primo grado di Agrippa secondo da parte materna è sempre di primo grado del padre di Agrippa primo da parte paterna proprio perché questo era lo zio di erodione era usanza tra di loro sposare le nipotine bene stavamo dicendo che ecco perché diventano ancora più complesse le genealogie di questi personaggi perché questi facevano matrimoni tra di loro sì che sposavano le nipote oppure si facevano matrimoni di sì oppure matrimonio tra cugini soprattutto no quindi eh si misero d'accordo i giudei per uccidere Paolo di Tarso leggiamo dagli atti e quando fu giorno certi giudei fecero radunata si adorano tra loro e sotto esagrazione si votarono promettendo di non mangiare né bere finché non avessero ucciso Paolo quindi 40 giudei eh promisero di uccidere Paolo e di non mangiare né bere per 40 giorni finché non fossero riusciti ad ucciderlo e coloro che avevano fatto questa congiura erano più di 40 i quali vennero eh dai sacerdoti e gli anziani dissero noi ci siamo eh sotto esegrazione votati di non assaggiare più alcuna cosa affinché non abbiamo non avremo ucciso Paolo ma il figliolo della sorella di Paolo dicono gli atti dell'apostoli udite queste insidie venne ed entrato nella rocca rapportò il fatto a Paolo il figlio della sorella di Paolo era proprio questo erodione noi sappiamo che nel 34 morì il tetrarca Filippo dopodiché Salome che era la sorella di Paolo di Tazzo che era sposata a a Filippo sposò diciamo l'anno dopo intorno al 35 Aristobolo mettiamo che l'anno dopo quindi nacque ero questo erode erodione vuol dire giovane erode quindi siamo intorno all'anno 36 dal 36 eh al qui siamo intorno al 55 56 era ancora molto giovane aveva 19 20 anni il ragazzo quindi il fratello della il figlio della sorella di Paolo era proprio questo erodione che andò a avvisare Paolo di Tazzo dicendogli attenzione perché eh ti vogliono uccidere e che cosa successe andiamo avanti siamo su atti degli apostoli chi vuole può aprire la libro la Bibbia e leggerselo eh capitolo ventitré e eh quindi Paolo di Tazzo una comune Bibbia cosa una comune Bibbia o quella ebraica no no una Bibbia comune una Bibbia comune questo questo che è invitato così e Paolo di Tarzo quindi eh chiamò uno dei centurioni per raccontargli quello che che volevano ucciderlo centurione chiamò il tribuno e eh il tribuno vedendo la sommossa che stava succedendo voleva arrestarlo e Paolo di Tarzo disse attenzione non puoi arrestarmi perché io ho la cittadinanza poi tu arrestare un cittadino romano quando sentì queste parole il tribuno si bloccò immediatamente dicendogli perché sei cittadino romano io sono cittadino romano di nascita e lui rispose io ho dovuto addirittura acquistarla e a caro prezzo per avere la cittadinanza romana di nascita bisognava appartenere a famiglie di una certa importanza infatti la cittadinanza romana fu data e quindi poi eh veniva data per discendenza addirittura da Giulio Cesare al padre di Ero del grande antipatro con cui collaborò e il eh centurione il tribuno a questo punto che che cosa fece saputo saputo che eh volevano ucciderlo lo mandò dal eh procuratore felice il capitano eh dicenziò il giovane cioè erodione ordinandogli di non dire a nessuno di queste cose poi chiamati due dei centurioni disse loro tenete pronti fin dalle ore tre della notte duecento soldati settanta cavalieri due e duecento sergenti per andare fino a Cesarea disse loro ancora che avessero delle cavalcature pronte per farvi montare su Paolo e condurlo in salvo al governatore felice ora le persone ma come un tribuno chiama addirittura duecento soldati settanta cavalieri duecento sergenti per accompagnare un perso un giudeo come Paolo di Tarso ma è una favola assolutamente no era un personaggio importantissimo era il nipote del re Erode il grande quindi questa storia ragazzi è una eh storia vera non ci stanno raccontando assolutamente frottole dopodiché fu portato dal procuratore felice leggo ancora dati degli apostoli in questo caso siamo al capitolo ventiquattro ora alcuni giorni dopo eh venne felice il procuratore felice con Drusilla sua moglie la quale era giudea questa Drusilla mandò a chiamare Paolo e la ascoltò intorno alla fede su Gesù Cristo e ragionando egli della giustizia della temperanza e dei giudizi e del giudizio avvenire eh felice tutto spaventato rispose al presente ma un'altra volta quando eh avrò l'opportunità ti manderò a chiamare quindi lo lasciò libero però attenzione qui ci sta dicendo che il procuratore romano felice era sposato con una giudea che si chiamava Drusilla inoltre aggiungono gli atti degli apostoli che conosceva la dottrina di Paolo di Tarso quello che stava facendo Paolo di Tarso sai chi era Drusilla? No veramente non non mi viene proprio in mente nessun nome e a me invece quando ho sentito Drusilla tacca sia accesa la lampadina dico parca miseria sta Drusilla giudea ma era l'ho sentita mi sembra di ricordarmela tra gli erodiani della famiglia di Erode Erode figlio di Erode il Grande sposa Erodiade che era figlia di Aristobulo sempre figlio di Erode il Grande e ebbero San Paolo Costobar e Salome i figli di Aristobulo invece e di Berenice che era figlio di Salome sorella di Erode il Grande erano Agrippa ed Agrippa ebbe Drusilla Agrippa II e Berenice Drusilla era la cugina di Paolo di Tarso ah ecco ed era la moglie del procuratore Felice tutti i figli di Paolo di Tarso i nipoti vennero allenavati a Roma ed educati alla corte di Roma ma non sopra proprio gli imperatori romani ragazzi hai capito chi era questa Drusilla? Hai capito perché chiamarono più dei quasi 400 uomini e ascoltare Paolo di Tarso ecco perché Felice conosceva molto bene Paolo di Tarso e lo lasciò libero perché aveva sposato la cugina di Paolo di Tarso eccola qua Drusilla attenzione perché gli altri due fratelli di Drusilla erano il re Agrippa II e sua sorella Berenice tant'è che diedero scandalo a Roma perché diventarono anche amanti di Berenice poi diventò l'amante dell'imperatore Tito noi sappiamo che il procuratore Felice fu procuratore dal 52 al 58 dopodiché fu sostituito dal procuratore Porcio Festo nel 48 che nome ha dei nomi amici era un Porcio che mi piaceva fare ricordo già me l'avvenuto in mente quando hai detto poi avevano una relazione beautiful ah sì no vabbè ma beautiful non c'erano omicidi qui sono lotte di potere tra questi erodiani si uccidevano tra l'altri tra nipoti, zii, cugini ragazzi altro che beautiful beautiful è una barzelletta se si fa una serie su questi personaggi ma che rimane in piedi del cristianesimo non rimane, non rimarebbe in piedi assolutamente niente dicevo nel 58 poi ti faccio una domanda alla fine su questa cosa che dico adesso te la faccio dopo però nel 58 il procuratore Felice viene sostituito da Porcio Festo altro procuratore Porcio Festo che cosa fa? Chiama Paolo di Tarso per sottopor perché gli ebrei quando intervenne Porcio Festo come procuratore lo accusarono di fomentare delle sedizioni eccetera eccetera ebbene quando accusarono ci fu questo processo dove questi sommi sacerdoti ebrei volevano che Paolo di Tarso fosse giustiziato e ucciso da Porcio Festo sai chi c'era in questo processo? no c'erano Berenice e Agrippa II i cugini di Paolo di Tarso te lo dicono ancora una volta gli atti degli apostoli e non erano lì a caso erano i cugini di Paolo di Tarso Agrippa II attenzione che era re quando ci fu questo processo e Porcio Festo non trovò nessuna accusa veritiera nei confronti di Paolo di Tarso che stava promuovendo questa dottrina i romani poi lasciavano la massima libertà in campo di religione a tutti quanti non gliene fregava assolutamente nulla l'importante è che si pagavano i tributi a Roma e Paolo di Tarso invece che cosa fece? si appellò a Cesare cioè all'imperatore io sono cittadino romano e mi appello a Cesare tant'è che Porcio Festo dovette mandarlo a Roma da Nerone per essere processato e Agrippa II e Berenice i cugini di Paolo di Tarso Paolo è uscito fuori di testa non c'era nessuna accusa nei suoi confronti che motivo aveva di appellarsi all'imperatore a Nerone infatti te lo stavo chiedendo perché ho detto ma mi sarà persa qualche cosa olè apriamo la seconda scatola magica perché a Roma aspetta che Leonardo magari li ingrandisce perché non si vede bene come l'altra grazie Leonardo e andiamo ancora sulla genealogia di Paolo di Tarso ragazzi ecco perché è importante anzi ti ero del grande ora tra i figli di ero del grande dove sta vediamo un po' eccolo qui abbiamo un altro figlio Alessandro Alessandro era un altro figlio dell'ero del grande fu ucciso insieme ad Aristobulo nel 7 avanti Cristo da Dio cioè da ero del grande il padre di Gesù questo Alessandro sposò Glafira Glafira era la figlia di Archelao di Cappadocia colui che io dissi mandò i re magi ad onorare ero del grande avendo saputo che stava per nascere da Maria Boeto la sua terza moglie nonché Maria dei Vangeli l'ultimo suo figlio che era proprio Gesù e quindi Glafira sposò un figlio di ero del grande questo Alessandro qui questo Alessandro ebbe un figlio a cui mise il suo stesso nome Alessandro e Alessandro figlio di Alessandro quindi essendo Alessandro figlio di ero del grande era fratello di ero dei padri di Paolo di Tarso quindi Alessandro ed ero dei padri di Paolo di Tarso erano erano fratelli ne consegue che Alessandro figlio di questo Alessandro e Paolo di Tarso fossero cugini bene il figlio di Alessandro figlio di questo Alessandro si chiamava Tigrane Sesto Tigrane Sesto e chi è questo Tigrane Sesto? Boh non si sa Tigrane Sesto nel 58 quindi era il figlio del cugino di Paolo di Tarso tu hai un cugino Carmen il figlio di tuo cugino Nerone nel 58 lo fa re re dell'Armenia nel 58 ragazzi Paolo di Tarso nel 58 Felice fu sostituito dal procuratore Porcio Festo e quel processo ci fu nel 59 aveva salututo che l'imperatore Nerone il Cesare a cui si era appellato aveva fatto re dell'Armenia il figlio di suo cugino Tigrane Sesto ecco perché si appellò a Cesare ecco perché volle incontrare Nerone tant'è che a Roma non fu mai arrestato aveva la massima libertà e fece proselitismo anche lì a Roma perché gli interessava allacciare rapporti con personaggi importanti tant'è che poi Paolo di Tarso lo troviamo insieme a Gaglione che era il fratello di Seneca tant'è che Paolo di Tarso lo troviamo insieme ad Aquila Aquila e Priscilla due personaggi che incontrò dopo l'espulsione dei giudei da parte dell'imperatore Claudio abbiamo Tiberio Caligola e poi l'imperatore Claudio questo Aquila sai chi era? era colui che uccise Caligola con la spada questi personaggi conoscevano ed erano imparentati imparentati con personaggi di Roma questo Archelao di Cappadocia il padre di Glafida che sposò Alessandro il nonno di Tigranesesto che Nerone fece re dell'Armenia sposò personaggio che sicuramente avrai sentito nominare Pito Dorida un altro nomaccio oggi sei meglio di più hanno ragione quando ti dicono che è complicato ricordare questi eh lo so ma ecco perché è difficile fare ricerca comparata e sono riuscito a sistemare tutti i tasselli uno dopo l'altro dopo che ho scoperto che Gesù era il figlio dell'ero del grande e Paolo di Tarso il nipote tutti i tasselli sono tornati a posto Stapido Dorida che nessuno conosce e sembra pure una parola era la nipote di Marco Antonio Marco Antonio adesso lo conosco tutti eh quello sì ne ho già parlato tra l'altro era la nipote addirittura di Marco Antonio ma pensa ed ebbe una figlia Antonia Trifena e Paolo di Tarso in lettere ai romani saluta Trifena ragazzi hanno raccontato la verità tutti i personaggi realmente esistiti tutte storie realmente accadute certo non potevano raccontarci che Gesù era il figlio del reo del grande e che ero del grande era il nonno di San Paolo altrimenti come avrebbero potuto creare il cristianesimo immaginati adesso se tutte ma questa è una parte eh delle scoperte che usciranno nel secondo libro perché quando vedrete tutti i personaggi che saluta Paolo di Tarso vi metterete le mani nei capelli ecco perché era imparentato tutti gli erodiani si erano imparentati con tutti i re vassalli di 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 altre zone di Pergamo della Cappadocia dell'Armenia della Tracia eccetera eccetera tutte regioni vassalle dell'impero romano ecco perché senti noi dovevamo concludere ehm arrivando in effetti al re Artù però io ti prima di adesso non so se ci arriverai in questa puntata perché è già abbastanza lunga prima di non ci arriverò né su questa né su altre puntate perché le persone si compreranno il libro e neanche sulle tombe che abbiamo trovato dei familiari di Gesù si dovranno comprare il libro perché le persone purtroppo noi stiamo spiegando ma premesso che sul libro siccome esce quindi spendo una parola no no stiamo parlando del secondo volume di Oltre il Velo Disile non di questo no non ancora però perché tu sai che in questo momento sto facendo ricerca quindi è inutile che compro già proprio perché tu dicevi che vanno acquistati i libri per le ricerche insomma sono una bella spesa quindi sto facendo un po' detto questo ti volevo chiedere Paolo di Tarso che ha fatto il proselitismo in effetti tu dicevi raccontavi che ha creato il cristianismo in qualche modo l'ha fatto per se stesso cioè per quale motivo per la famiglia spinto dalla famiglia per quale motivo no loro eh allacciarono rapporti con consoli prefetti eccetera e in funzione antiimperiale contro gli imperatori per la restaurazione della Repubblica Romana ecco perché loro chi tutti i personaggi con cui si allacciò Paolo di Tarso da Seneca Gallione tutti questi personaggi qui ecco perché poi molti imperatori a parte Vespasiano che tirarono su proprio loro come imperatori molti imperatori poi ce l'avevano con i cristiani sì Roma ha allenato ha allevato una serpe di vipere questi erodiani dentro le sue mura quindi è una sorta di congiura potremmo dirlo cioè nel senso che la creazione di questa è una sorta di allaccio tra questi personaggi gli erodiani con le alte sfere politiche senatoriali romane eh per prendere cercare di prendere il potere e alla fine attraverso la religione una delle cause della distruzione dell'impero romano fu proprio il cristianesimo ah ok no questo volevo chiarire questo aspetto perché non ti ho interromputo prima perché già mi hanno riproverato che ti interrompevo troppo no ma che in male persone ma che non devono se io faccio no allora non la prendo si abbassa il livello di attenzione è importante che insomma si comprenda quello che è il filo del discorso io certe volte interrompo più per chiarimenti miei che possono essere utili insomma non è per ma queste sono scupe a parte la complessità degli studi no ecco perché diciamo sempre di leggere i libri e vedere che poi il giro di relazione di ma non è finito qui nel libro si andrà avanti si andrà su mitridate le guardie mitridatiche purtroppo se non si legge i libri si rimane sulle pillole di informazione dopo di che le persone fanno domande su domande non riuscendo a capire sei scrittrice anche tu carmen hai scritto libri anche tu allora nel tuo caso tu metti le tabelle chiarisci insomma le tabelle che c'hai alla lavagna quindi questo volevo chiarire come aspetto le metti anche nel libro per comunque per avere un maggiore un maggiore impatto visivo poi comunque bisogna prendere appunti non ce n'è certo è uno studio ma questi sono studi come quando mi dicono professore io dico io non sono un professore sono un ricercatore i professori sono quelli che poi parlano delle scoperte dei ricercatori ma attenzione perché in questo ambito qui nessuno ha mai scoperto niente queste sono vere e proprie bombe storiche in grado di far crollare il cristianesimo e ricostruire la storia perché purtroppo la storia l'hanno scritto agli uomini di potere va bene vi andremo a svelare i primi papi arrivando fino ad Artù per vedere per la prima volta chi era questo personaggio su Artù quanti film documentari hanno fatto non sarei mai riusciti a scoprire nulla il mio primo libro le nebbie di Avalon ero innamorato a 5 anni il film di Sway un malloppo così tu pensa che poi non si trova chi fu Giulio Cesare il primo a sbarcare in Britannia dopodiché si stabilirono relazioni commerciali con la Britannia perché lì c'era lo stagno c'erano sostanze minerarie che facevano gola ai romani fino a Giuseppe da Rimatea che si dice sbarcò a Glasgoburi Giuseppe da Rimatea e Nicodemo i due che presero il corpo di Gesù e lo chiesero a Pilato erano parenti di Gesù anche loro e tutto parte proprio da Giulio Cesare Giulio Cesare da Nicomede Nicomede sì faccio solo un appello a tutti quanti affinché chiedano le immediate dimissioni non posso chiamarlo neanche signore perché non è tale di Bergoglio che il Vaticano eh no c'è poco da ridere perché questo stavo non stavo pensando in realtà le ultime esternazioni che si alcuni si stanno chiedendo per quanto riguarda la pace le ultime esternazioni che ha fatto se effettivamente abbia un ravvedimento ma non è così cioè nel senso che sembra che ci sia una piccola ci sia un piccolo cambiamento di strategia comunicativa il Vaticano è terra nostra e deve ritornare a Roma hanno accumulato 60 tonnellate d'oro con un inganno gigantesco e deve tornare al popolo italiano compresi tutti quegli appartamenti che hanno in tutta Italia e soprattutto a Roma appartamenti lussosissimi di 4 500 1000 2000 5000 metri quadrati se ne devono andare tra l'altro Carmen vorrei ricordare una cosa che Gesù disse che il suo messaggio non era rivolto ai pagani cioè a noi ma dovevano predicare solamente nella casa di Israele e neanche ai samaritani che faceva parte della palestina quindi quel suo messaggio non era mica rivolto a noi e mica alle pecore e dici tu che sei una pecora israelita no e non era rivolto a te Carmen e mi dispiace ma queste sono le parole di Gesù le trovano nei Vangeli eh magari ne parliamo approfondiamo l'aspetto la prossima cosa diciamo che ne parliamo chiudiamo solo con il concetto che qui si parla di storia e non di spiritualità spiritualità facciano le valigie se ne tornino a Gerusalemme quindi questi relati no e poi vediamo che cosa succede là perché mi sembra anche che non vadano molto d'accordo con i cristiani eh quindi chiudiamo la puntata chiedendo le immediate divisioni di Bergoglio e che sia l'ultimo papa con questa frase ci salutiamo salutiamo a casa e ci vediamo alla prossima puntata grazie per chi ci guarderà alla prossima prossima puntata Alieni e Progetto Bourbeam finalmente ah gli potrò parlare anche non ti intetuto ah sì non vedo l'ora guarda perché la disinformazione che stanno facendo su questo cara Carmen la sappiamo benissimo no e sono sempre i servi di queste rette cari massoni che lo stanno portando avanti grazie a tutti va bene un abbraccio a tutti un abbraccio e un bacio a te grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti